Dal discorso di Pietro Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Ogni giorno bisogna rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro la propria responsabilità. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra, metterci dentro il vostro impegno, il senso civico, la coscienza civica, la volontà di mantenere queste promesse. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Questa non è una carta morta, è un testamento. È un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. La mattina dopo era tutto finito. Non ci fu neanche più un colpo in aria, ma ci vollero dodici ore perché noi partigiani e la gente ci persodessimo di quella quieta. Loro avevano ammazzato più borghesi che partigiani, avevano fatto falò di cascine e razziato, avevano sforzato donne, intruppati uomini e preti, perché li portassero a cassette dalle munizioni e gli facessero scudo da noi. Erano venuti in tre divisioni per setacciare tutto e tutti. Ma, chiedo perdono ai morti e alle loro famiglie, scusa a quelli che ci hanno perduto la casa e il bestiame, ma io credo che allora tedeschi e fascisti non si siano salvati le spese. Non fu abilità nostra, né che loro fossero tutte schiappe. Fu, con la sua terra, la sua pietra e il suo bosco, la Langia, la nostra grande madre Langia. Beppe Fenoglio, appunti partigiani, 44-45. Aprile 1945, di Buzzati. Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull'Europa. E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia e nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricomincia ad essere più buona. Spari di gioia per le vie. Finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano. I più duri tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo. È pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte, che gelano il sangue. E al rombo al simante dei motori le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prenderne uno qua e uno là senza preavviso e sentirle perennemente nell'aria. Notte e dì capricciose tiranne. Non più. Non più. Ecco tutto. Dio, come siamo felici. Era una sera di prima estate. Tutto intorno era silenzio. C'erano tante stelle e, ricorrendo quel sentiero, udivo solo il fruscio delle foglie. Pensavo alla lunga camminata che dovevano affrontare quei ragazzi per giungere al falchetto. Quanti altri, come loro, avevano abbandonato le proprie case per rifugiarsi sulle colline e sulle montagne. Non immaginavo neanche lontanamente che il mattino seguente li avrei rivisti, uno accanto all'altro, nella sala mortuaria nel cimitero di Canelli. Così, nel libro Il ragazzo e il falchetto, Nicoletta Soave Liberati, staffetta partigiana che tante volte ha rischiato la vita per la libertà, ricorda i cinque ragazzi uccisi dai nazi fascisti sulla collina sopra Santo Stefano Bello. I loro nomi, Luciano Robino, Carlo Vizzo, Bruno Albione, Ernesto Torre e il quinto, ignoto, proveniente dalla Sicilia. 25 aprile 1945, di Pietro Calamandrei. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macinio, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decise a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno. Popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Ogni anno abbiamo concluso la nostra camminata resistente dai caffi al falchetto con queste brevi ma significative parole tratte dal partigiano Johnny di Beppe Fenoglio. Mi sembrava bello ricordarle anche oggi, così ve le leggo aggiungendo solo due righe in più. Johnny sedeva e fumava al limite della pioggia. Fare partigiano era tutto qui, sedere per lo più su terra o pietra, fumare ad averne e poi vedere uno o più fascisti, alzarsi senza spazzolarsi il dietro e muovere a uccidere o essere uccisi, a infliggere o ricevere una tomba mezzo stimata, mezzo amata. Ma egli amò tutto quello, notte e vento, buio e ghiaccio, e la lontananza e la meschinità della sua destinazione, perché tutti erano i vitali e solenni attributi della libertà.